Abbiamo approvato il nuovo regolamento della pratica forense, una sorta di regolamento organico che raggruppa tutte quelle leggi che sono state approvate da qui e dagli ultimi sei anni, a cominciare dalla legge 247 del 2012 per finire al decreto 70 del 2016. Raggruppa un po' tutte quelle nozioni che servono al praticante avvocato per svolgere in maniera precisa il periodo di tirocinio forense. Questo regolamento è stato deliberato nella scorsa seduta consigliare ed è già online sul sito dell'Ordine degli Avvocati di Bari. Guarda come dicevo appunto un po' tutto quello che interessa al praticante avvocato, per esempio l'articolo 73 come pratica presso l'ufficio giudiziario. Guarda il numero di relazioni che il praticante deve consegnare, un po' tutto quello che serve al praticante sapere per svolgere in maniera precisa il periodo di tirocinio forense.